Questa settimana è stata caratterizzata un po' nella notte tra lunedì e martedì otto ragazze hanno subito un virus intestinale e da martedì abbiamo assente queste otto ragazze Tantanto sono stati effettuati a chiedere il sforzamento delle gare la serie C della 18 e la 16 perché non eravamo le ragazze le squadre e quindi ci ha compromesso anche chiaramente tutto il lavoro tutto il lavoro in settimana che avrebbe dovuto adattare un po' le varie assenze la serie C è trasportata a martedì a tanti invertiti giocheremo fuori casa mentre la 18 è stata sforzata il 24 di gennaio e la 16 ancora deve finire sempre nel mese di gennaio Un aspetto positivo comunque c'è in questa settimana sono arrivate le convocazioni nazionali under 16 nella quale è stata riconfermata Marinone Elisa e con lei questa volta è stata convocata anche di Giulio Francesca Per noi veramente grandissimo orgoglio e soddisfazione avere addirittura due ragazze in questa selezione che faranno a Cambiano il Prodice di Torino dal 27 al 30 di dicembre siamo contenti per loro sarà un'ulteriore grande soddisfazione l'esperienza che loro faranno quindi questo weekend giocheremo soltanto con le giovenili under 14 e i ragazzi under 18 e presumo che il sabato sperando di divertire tutti i ragazzi faremo un allenamento perché poi il tocco lunedì abbiamo ancora cinque ragazzi in selezione regionale e poi martedì giocheremo in 16 quindi l'unico allenamento al completo presumo e spero di farlo sabato pomeriggio